Chiaramente le sette parole di Cristo nella tradizione appunto sette parole poi in sostanza si tratta di frasi, di aforismi detti secondo la tradizione evangelica dal Cristo sulla croce ovvero tutto è compiuto donna questo è tuo figlio sarai con me in paradiso sono dei momenti in cui la sofferenza del Cristo figlio di Dio in realtà è anche una sofferenza del Cristo uomo ed è proprio su questo aspetto che si è creata una drammaturgia che si è concretizzata in una vera e propria opera da camera perché la parabola della sofferenza che poi si compie in una in una salvezza, in una redenzione in realtà è stata espressa e rappresentata sulla scena proprio attraverso questo sviluppo dell'umanità dal momento della sofferenza fino alla salvezza tant'è che anche dal punto di vista musicale oltre che drammaturgico e testuale l'opera si conclude con una solarità corale che fa pensare appunto a uno scenario di speranza la trasposizione quindi dell'aspetto evangelico con quello musicale come ci siete riusciti? attraverso l'uso di un linguaggio moderno moderno non astruso perché molto spesso quando si parla di musica contemporanea si pensa dei linguaggi particolarmente intellettuali e magari scollati dal gusto dall'abitudine all'ascolto di un pubblico tra virgolette ma in senso buono profano invece il compositore appunto tenuto a trasferire i concetti evangelici in questa dimensione appunto molto umana anche attraverso soprattutto attraverso l'uso di un linguaggio fruibilissimo sia dal punto di vista degli spunti melodici sia dal punto di vista soprattutto della ritmica quindi questo lo dico anche perché il titolo deve essere pensato come una in una dimensione che è estremamente contemporanea in termini di fruibilità cioè di vicinanza non di distanza e questo credo che sia importante sottolinearlo perché appunto le sette parole di Cristo sono sempre state legate finora a una dimensione classica a una dimensione tra virgolette aulica invece anche la modalità teatrale sarà una modalità che accoglie è una modalità immersiva in cui la dimensione molto speciale che lo spettatore potrà verificare venendo allo spettacolo è una dimensione che inizia ancora prima dello spettacolo a un'altra dimensione che inizia ancora prima di rispondere Grazie.